ah quindi sei vicino quindi stai più vicino al monitor tu e non riesco e non riesco a giocare così cioè dopo un po' mi fa male la mano c'è il braccio scusa ah ma è vero ma tu che monitor hai 27 o 24? che ce l'ho 24 no scusa 27 devo ricaricare oh ma io ho il pompa oddio ma io devasto tutti non capisco aspetta qua 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 dove spamano? eh eh ma non capivo in che punto oh però sei che il di fila ho fatto qua che è che il di fila ho fatto bene i miei stavo attirando la granata uno l'ha ucciso sono morto dalla granata che gli ho preso dalla mano non capisco non capisco non capisco che c***o no dai mentre c***o c***o ah ma era un nemico pensavo fosse un alleato scemo no madonna un alleato cosa? cosa ha fatto? no vabbè ma scusa venendo ok ok no ma dove c***o sono? ma dove c***o sono? dai c'era il fumo non ve lo voglio niente perdiamo arriva uno qua non conosco la mappa no madonna arrivo oh davanti davanti oddio devo grattarmi un fili del c***o eh vabbè ora mi gratto eh vabbè ora mi gratto mancara ok prendiamo Charlie c'è una cosa dentro ma ne sentono qui sono tutti bene vado 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 non conosco la mappa però puttana troia ma ce n'era un'altra madonna uomo stanno veramente fermi dove si mettono a parte quello che fuscia col pompo c***o una qui va c***o bravo in mano nostra perdiamo a la vittoria in vista avanti cosi prendiamo Charlie da ce n'a sera qualcun fa per forza non prendiamo a perdiamo b non posso passare c'è il fuoco dai l'altra arrivo è il suo mamma contesa bella madonna si ma che culo inversione parti si ciao brick ciao lirikspin non mi ricordo come l'ho lanciato sono tutti in fondo sono tutti ora lancio di nuovo sono tutti in fondo la mappa c'è quattro almeno ecco ci sono andato proprio dentro stavo correndo devo entrare a velocità di mira con quest'arma ma sei tu ok guarda guardalo guarda adesso sta adesso sbagliato dove sei si ce n'è uno camperato qua io so dove ah no ok ma non era lui ok si ma guarda come cazzo zucano mi cazzo zucano aereo spia nemico in arrivo ah arrivo ho pixel pick arrivo avviciniamo ericottero di sopporto nemico in volo perdiamo B cosa mi ha acce- taglio non so cosa devo volerci no no c'è la torretta via via torretta di merda ma quanto durano le torrette di... come scusa che ero dietro al caffè ma è un nemico questo no ok oddio davvero questo davvero stava lì coglione ormai è fatta non perdiamo la concentrazione guarda questo occhio ne avevo uno qua a sinistra eh Soviet allora ah non gli è arrivato neanche un colpo non è possibile ma l'ho inceso ma guarda ma guarda ma guarda no ma guarda ma guarda ma guarda